Seconda giornata di questo progetto europeo dedicato al cinema, cinema giovanile in Italia e nel mondo, che vede sei università da tutta Europa. Vetro, di croce, tu fai un'analisi sugli spazi, sulle assenze, sulle geometrie, e quindi volevo sapere qualcosa di più. Il film è molto interessante perché è ambientato appunto in questo monolocale, in un unico ambiente che ricorda quegli interior borghesi tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento, riproposti negli anni Cinquanta del Novecento, però riproposti con una nuova chiave di lettura, con una nuova funzione messa dentro, che è quella che è tutta rivolta all'individuo, è scevra del rapporto con gli altri, è priva del collettivo, della dimensione pubblica, e quindi somiglia moltissimo a quelle gabbie che sono appunto individuali e che vanno, come dire, a configurarsi sempre di più nelle nuove città contemporanee e nel modello ideale di città contemporanea di cui soffriamo oggi. Rapporto, ecco, degli studenti che frequentano questi scambi europei, insomma, a partire da tutta la filiera del cinema, insomma, no? Sono stati coinvolti studenti, studentesse di un'estate stranieri e la titolazione, coinvolti anche nella formazione delle giurie. E secondo lei, insomma, ecco, qual è il giusto apporto, insomma, no? Per i nuovi studenti, le nuove studentesse che vogliono iniziare un percorso di studi? Sicuramente questo del loro coinvolgimento all'interno anche delle strutture didattiche e delle strutture che si occupano di sperimentare e speculare, dal punto di vista culturale, sugli eventi, è sicuramente il punto di partenza. Gli studenti, quando vengono coinvolti in questo tipo di esperienze, anche in prima persona, non solo imparano ad applicare le cose che gli stiamo insegnando, ma apportano un contributo sicuramente fresco, sicuramente nuovo. Riescono a dire e a farci vedere delle cose che le generazioni ovviamente passate possono vedere sempre meno o in modo sempre più offuscato. E questo penso che sia il grande valore anche di un'università come questa che interloquisce in modo molto diretto con gli studenti e che li coinvolge con un ruolo attivo nell'attività che fa.